Sono triplicati nel 2018 i profughi rintracciati dalla polizia di frontiera a Trieste rispetto all'anno precedente con il conseguente raddoppio dei passera arrestati. Dati inequivocabili quelli che discendono dal report annuale del settore diretto dal dottor Antonio Grande. In particolare dallo scorso maggio, con un picco tra luglio e ottobre, la fascia confinaria della provincia di Trieste è stata interessata da un continuo flusso di migranti irregolari che hanno raggiunto l'Italia attraverso la rotta balcanica, più di 55.000 persone identificate e 17.600 veicoli controllati dagli agenti. 1494 i profughi scoperti, di cui 300 immediatamente riammessi in Slovenia. Si tratta principalmente di cittadini pakistani, afghani e in numero minore algerini, bengalesi, iraniani, irachieni, indiani, marocchini e turchi. Quanto poi a chi lucra sul traffico di esseri umani, sono stati 95 gli arrestati, di cui 29 per favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Oltre a questi, 1.778 persone sono state indagate a piede libero. Questo è il frutto del rafforzamento dei controlli in prossimità degli ex valichi, un'attività che ha visto anche una stretta collaborazione con l'esercito. La sinergia tra polizia di frontiera e militari del reggimento Piemonte Cavalleria di Trieste si è tradotta nell'impiego di ben 1460 pattuglie congiunte nel corso dell'anno.